Ufficio Disabili, Polizia Municipale, Comune di Montesilvano, oggi è stato presentato questo interessante progetto. Sentinella Vigile, comandante, è un progetto importante. È un progetto veramente importante, ma si colloca in una continuità, perché abbiamo sempre collaborato con l'Ufficio Disabili, e questo ci aiuta a continuare su questa linea. Infatti è un progetto dove vede l'operatore di polizia locale insieme a una persona disabile che due o tre volte alla settimana insieme percorrono una strada, un quartiere, per vedere e verificare se ci sono delle violazioni al codice della strada, se ci sono delle problematiche, tutto insieme. Claudio Ferrante, oggi presentate questo progetto Sentinella Vigile, progetto unico e primo in Italia. Assolutamente sì. Sono anni che ormai il Comune di Montesilvano cerca di garantire al massimo il diritto alla mobilità. Avevamo iniziato con il numero verde, avevamo iniziato con il raddoppio dei parcheggi dei disabili. Chiaramente l'amministrazione comunale di Montesilvano ha capito perfettamente che è necessario garantire la qualità della vita delle persone con disabili. Stiamo cercando disperatamente di far capire a tutti i cittadini che occupare un posto riservato ai disabili non è soltanto la violazione del codice della strada, ma significa davvero diminuire, spegnere la qualità della vita delle persone. Significa non consentire davvero la persona di vivere, perché basti pensare quando piove non possiamo nemmeno tenere un ombrello in mano. E questo fa capire quanto è importante tutto questo. E quindi questo progetto, da una parte, cerca di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza al rispetto assoluto. Dall'altra c'è la certezza della regola, perché sono i vigili urbani che fanno rispettare il codice della strada.